Presso l'Istituto Nazionale dei Tumori è stato da poco avviato uno studio clinico sperimentale, lo studio Breakfast, disegnato in collaborazione con IFOM, in particolare col gruppo del professor Marco Foiani e con IEO, con il gruppo del professor Saverio Minucci, al fine di valutare l'attività antitumorale derivante dalla combinazione di una dieta sperimentale, una dieta ipocalorica, ipoglucidica, ipoproteica con o senza la metformina che rappresenta un farmaco antidiabetico in combinazione con la chemioterapia citotossica. Lo studio prevede di arruolare circa 90 donne, 90 pazienti con carcinoma mammario triplo negativo in stadio clinico dal primo al terzo, quindi si tratta di tumori potenzialmente operabili, che tuttavia sappiamo beneficiarsi di un trattamento chemioterapico preoperatorio, cioè prima dell'intervento chirurgico di circa 6 mesi. Queste 90 pazienti arruolate nello studio Breakfast verranno randomizzate, ossia assegnate in maniera casuale 50% di probabilità o alla chemioterapia standard in combinazione con la dieta ipoglicemizzante, ipocalorica, oppure alla combinazione di chemioterapia più dieta ipoglicemizzante più metformina. Si tratta dunque di uno studio clinico un po' particolare perché ha entrambi i bracci di trattamento sperimentali e in questo caso il confronto con il dato della sola chemioterapia viene fatto con il dato storico di efficacia della chemioterapia che consiste in circa un 40-45% di remissione completa del tumore. In questo studio in cui abbiamo deciso di essere parecchio ambiziosi puntiamo a incrementare questo tasso di scomparsa del tumore sia a livello della mammella sia a livello dell'infono di ascellare dal 40-45% al 65%. Lo studio è stato disegnato in collaborazione con IFOM e IEO presso l'Istituto Nazionale dei Tumori dal sottoscritto dal professor De Bro che rappresenta il direttore del Dipartimento di Oncologia Molecolare e in collaborazione con i colleghi oncologi e della senologia. Lo studio sarà monocentrico quindi verrà condotto nell'arco temporale di due o tre anni presso l'Istituto Nazionale dei Tumori e prevede oltre all'obiettivo clinico che abbiamo appena descritto anche una serie di studi molecolari che effettueremo o all'interno dell'Istituto Nazionale dei Tumori oppure in collaborazione con IFOM e IEO. Due parole riguardo alla dieta ipoglicemizzante. La dieta ipoglicemizzante che abbiamo sviluppato in Istituto Nazionale dei Tumori a partire dal 2016, mi ha cominciato a lavorarci nel 2016 e ha avviato nel 2017 col professor De Bro il primo studio clinico che ha ruolato più di cento pazienti e che adesso ha chiuso l'arruolamento e ha dimostrato la sicurezza e la fattibilità di questo approccio nutrizionale sperimentale che dura cinque giorni e che prevede l'utilizzo essenzialmente di una dieta a base di alimenti di origine vegetale fortemente ipocalorica con 600 kcal il primo giorno e 300 kcal circa dal giorno 2 al giorno 5. Il primo studio che abbiamo condotto in cui i dati e che attualmente in revisione su una rivista scientifica abbastanza importante ha dimostrato la fattibilità di questo approccio. Quindi i pazienti riescono a seguire la dieta proposta in maniera fedele e con tutto sommato pochi effetti collaterali. Dunque la speranza adesso è quella di dimostrare dopo la fattibilità di dimostrarne l'efficacia in combinazione con i trattamenti antitumorali standard.